Buongiorno e benvenuti a Occhio ai Giornali, l'appuntamento con la stampa del mattino alle 7 in diretta e poi con le repliche che si susseguono nel corso della mattinata, l'ultima ve la ricordo alle 13.30 qui sul canale 17 ma poi è sempre disponibile su Youtube e su Facebook. Allora andiamo a vedere i Santi di oggi, anche oggi abbiamo due Santi da ricordare, lo facciamo con questo cartello, i Santi Marco e Marcelliano, dobbiamo tornare indietro nel tempo, sono due martiri che hanno pagato con la vita durante le persecuzioni di Diocleziano. Alle 5.26 l'alba, 20.57 il tramonto. Il tempo per oggi dal sito della protezione civile delle Marche avremo isolati rovescio temporali possibili nelle ore centrali ma solo in collina e in montagna relativamente al meridione, quindi sui Sibillini ma anche qualche cosa lì sulla parte collinare, forse anche costiera, ma vedremo. Nella giornata di domani però sabato siamo nel pieno del fine settimana, avremo cielo soleggiato su tutta la regione Marche così come domenica qualche nuvola soltanto sull'Anconetano, per il resto avremo cielo sereno o pochissimo nuvoloso, insomma poco nuvoloso. Ma andiamo a vedere com'è il tempo questa mattina, anche se queste prime ore chiedo conferma anche al nostro bagnino che si trova in spiaggia in questo momento. Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Se trova insomma qualche nuvoletta in giro sparso sul mare c'è ancora questa mattina o no? Sì esatto, qui da noi a Marotta c'è un po' di nubi sparse, nel pomeriggio dovrebbe liberarsi e uscire il sole, però effettivamente questa mattina è un po' coperto, mare è stupendo, mare calmo, acqua è trasparente, però il sole stamattina si nasconde. Ecco, rimani pure lì perché andiamo a vedere questa pagina della Val Cesano del Corriere Adriatico, il titolo, ora sventola la bandiera blu, la stagione parte al meglio, la giunta consegna agli operatori il vessillo dopo quelli verde e giallo, quindi avete tre bandiere voi? Esatto. E com'è possibile? Tre bandiere addirittura, quindi avete la bandiera blu, la bandiera gialla e la bandiera verde. Esatto, diciamo che la bandiera gialla riguarda un po' più i comuni dell'interno, però siccome Mondolfo ha questa difficoltà di avere il mare, ma è andato via il collegamento. C'è anche un po' più alto, è alto, sì. Va bene, invece per il fine settimana mi confermi che ci sarà bel tempo soleggiato, quindi insomma siamo a cavallo. Sì, sì, le previsioni sono ottime per il fine settimana, temperature alte, però stando in riva al mare non dovrebbe essere un problema perché è un tuffo e passa la paura. Il titolo invece del resto del Carlino è Amarotta, le presenze sono già decollate, gli stabilimenti lavorano a buon ritmo e dalla prossima settimana si intensificherà il flusso dei turisti, soddisfazione ovviamente per la bandiera blu. Quindi anche l'arrivo dei turisti, giusto? Sì, siamo partiti con i primi giorni di giugno che insomma un po' stentava a decollare le presenze. Gli ultimi giorni hanno visto insomma anche a livello di prenotazione per le prossime settimane un buon incremento, non ci lamentiamo. Posso chiederti, poi ci salutiamo, quanto costa per esempio se io volessi passare una giornata lì da te al mare, quanto costa prendere un ombrellone e un lettino per esempio? Allora la prima fila, anche se da me insomma il fenomeno dell'erosione ci fa sentire quindi la spiaggia è poco profonda, considera che ci sono quattro file di ombrelloni, la prima fila costa qualcosa in più, quindi l'ombrellone 10 euro, l'ettino 7 euro giornaliero, le altre file, l'ombrellone anche che costare 10 costa 8 e quindi il lettino sempre 7, sostanzialmente un ombrellone e due lettini 24 o 22 in base alla prima fila o seconda fila. Va beh, insomma si può fare. Grazie allora, buona giornata, ci vediamo domani per l'ultimo collegamento della settimana. Grazie Gianluca, buon lavoro. Perfetto. Ciao. Grazie, ciao. Ristò spariti gli under 45, l'apertura del Corriere Adriatico di Pesaro questa mattina è per le vaccinazioni, al centro di somministrazione sono troppi i posti che rimangono liberi, i più giovani stanno disertando, vedete come cambiano idea molto in fretta, è bastato quell'evento drammatico di Camilla, 18enne morta in Liguria per svegliare i giovani e da questo, per svegliarli nel senso, per farli ragionare e qualcuno, anzi in tanti, stanno prendendo tempo, stanno prendendo tempo. Al centro di somministrazione dunque troppi posti rimangono liberi, non può vaccinarsi invece, questa è un'altra storia, ed è costretta dunque, ed è fuori dal tirocinio e poi al via i richiami dell'area vasta ai sanitari non ancora vaccinati, non ancora prenotati. Mentre a centro pagina, vedete qua il titolo, mascherine addio, titolo, punto di domanda, si può fare, chi lo dice si può fare? Lo dicono gli esperti su questa nuova proposta che potrebbe entrare in vigore dal 15 di luglio. Poi c'è la questione, o meglio il caso africano, dal ministro alla politica, la barzelletta del curriculum africano, doveva essere appunto il nuovo presidente dell'autorità portuale di Ancona, ma evidentemente qualcosa è andato storto e si parla di situazione più unica che rara. Finalmente sposi, ma che confusione con il Green Pass, lo vedremo tra poco, tra un istante, quello che potremmo fare dal prossimo lunedì, perché dal prossimo lunedì lo ricordiamo, le marche andranno in bianco. Impone l'amante alla moglie, invece lei gli chiede i danni e poi a campo di Marte, a Pesaro, partono i lavori per il ticket sosta. Altri 10 milioni di spesa per la variante di Gimarra, questa è la variante di Fano, il sindaco Fanesi opta per il tracciato con due gallerie, il traffico maggiore sul ponte dell'Arzilla, ora senza alternative. Invece Urbino rinasce con gli eventi, così i turisti restano più tempo. Il carlino di Pesaro ricce, ecco la città che verrà. Il sindaco parla in questa lunga intervista, ieri in Piazza del Popolo, di strada nazionale sottoterra, interrata, la nostra rambla, dice, e avanti con le ciclabili anche in Viale Cialdini. Poi sui vaccini, vaccini nelle aziende, pronti alla vitri frigo, ottima partenza. E poi la storia, la storia di un uomo che vuole fare il vaccino Pfizer, ma gli hanno proposto un altro vaccino, lui ha rifiutato e ha scritto al prefetto. Maturità con la DAD, anche per 27 alunni dell'istituto alberghiero, tre stabilimenti invece occupano pezzi di spiaggia libera, scatta la denuncia. Lo chef egiziano, questa è una storia che vedremo nel corso della nostra segna stampa più forte di tutti. Arrivai qui, racconta lui con il gommone e adesso è diventato uno chef. Lui ha 20 anni, lei ne ha 15, accusato adesso di violenza sessuale. Little Service, lo sport ha un passo dalla finale, nella Final Four Pesero batte Eboli 4 a 1, oggi gara 2 per chiudere poi i conti. Io in balia dei cinghiali davanti a casa il racconto ad Urbino della scrittrice Maria Luisa Moscati e in regione la strategia per frenare l'invasione di questi appunto cinghiali. Allora queste nuove regole, da lunedì tutti in bianco, sparisce il coprifuoco, si alle tavolate all'esterno, Maria Teresa Bianciardi questa mattina sul Corriere Adriatico, propone questa pagina con 8 punti che sono i più importanti, allora li guardiamo, visto che ci interesserà a partire da lunedì queste nuove regole, che cosa prevedono? Intanto prevedono, ma questo vale non solo per chi è in zona bianca, anche in zona gialla, perché sparirà definitivamente il coprifuoco, quindi da lunedì cade la restrizione sulle uscite determinata nelle marche da un doppio fattore, l'ingresso in zona bianca e poi come dicevo appunto la decisione del governo di eliminare il coprifuoco proprio dal 21 di giugno. Il coprifuoco, lo ricordiamo, è entrato in vigore lo scorso mese di novembre. Poi la mascherina resta anche all'aperto, ma fino a metà luglio, poi bisogna vedere insomma che cosa dice dirà il governo, in auto con tre persone se sono conviventi, le feste, le feste private e le cerimonie ci vuole il Green Pass, allora visto che questo è tempo di matrimoni qualcosa si comincia di nuovo a rivedere, allora nelle zone bianche ricordiamo che per le feste private successive a cerimonie religiose o civili, dunque matrimoni, cresime, comunione, battesimi ma anche compleanni, feste di laurea e anniversari, per parteciparvi bisogna avere una di queste tre certificazioni verdi previste, ovvero il certificato di vaccinazione che vale nove mesi dalla seconda dose, quindi il certificato ve lo faranno solo dopo la seconda dose e varrà per nove mesi, oppure il certificato di guarigione, avete preso il Covid, certificano che siete tornati negativi, quello vale sei mesi, tampone oppure negativo, il tampone che si può fare appunto anche in farmacia nelle 48 ore precedenti alla partecipazione dell'evento, quindi se dovete andare a un matrimonio, dovete fare, se non avete le prime due, quindi se non siete già stati a casa per il Covid, oppure se non vi siete vaccinati, dovete fare il tampone, bisogna fare il tampone, vale 48 ore, bisogna andare in farmacia, fare il tampone e poi partecipare al matrimonio, oppure non andate al matrimonio, o le feste, le cene e quant'altro. Pranzo, cena, tavola in sé ma solo all'interno, guardate qua, insomma, la nostra vita negli ultimi anni è cambiata così, pranzo e cena negli ultimi mesi, pranzo e cena, tavola in sé solo all'interno, in zona bianca, possono sedersi allo stesso tavolo all'interno di un ristorante, parliamo di all'interno del ristorante, quindi dentro, fino a sei persone. Riguardo ai tavoli all'aperto invece il Governo ha deciso di non dare una regola esplicita all'interno dell'ordinanza, non ci sono comunque limiti massimi al numero di persone che si possono sedere insieme, fuori, del resto il rischio di contagio da Covid è molto inferiore, per questo motivo le maglie sono molto più larghe. Poi le visite in libertà a parenti e ad amici, nelle Marche in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all'interno della stessa zona senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano, non ci sono quindi limiti ai ritrovi di persone all'interno delle abitazioni. Gli sport di contatto tornano al chiuso, l'attività sportiva può essere svolta all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria emanate dal Dipartimento dello Sport, poi sotto locali sì aperti con la musica ma non si può ballare, questo è un po' un paradosso, una sorta di frustrazione che gli operatori del settore continuano a manifestare perché comunque questi locali che nascono per dare la possibilità le persone di ballare con la musica ma senza appunto la possibilità di farlo, di ballare è un po' un controsenso, però gli esercenti non demordono e reclamano la riapertura almeno delle piste da ballo, almeno per luglio o agosto. Questa è un po' la situazione quindi da lunedì prossimo. Intanto a pagina 4 il Corriere Adriatico, giù la maschera da luglio sia all'aperto e senza folla, gli esperti marchigiani sono favorevoli ad eliminare l'obbligo della protezione al viso ma serve prudenza, è fondamentale proseguire con il distanziamento sociale. Ecco, su questo siamo tutti d'accordo insomma per evitare un possibile contagio, questa è l'unica arma di difesa non invasiva, che non fa male di sicuro, che non ha controindicazioni, distanziamento, mascherina e igiene. La Francia arriva prima, dice Massimo Clementi virologo, possiamo anticipare la data, qualcuno dice il 15 di luglio è un po' troppo tardi e vorrebbe anticipare di qualche giorno. Poi come vedete c'è qualche primario che dice nì, sì, però fondamentalmente sono tutti d'accordo. Susicola dice ci vuole comunque attenzione in estate perché il virus circola, già non si indossa a tavola, è dunque una misura adeguata, Stefano Menzio virologo e poi Michele Tempesta primario a Marche Nordice è sensato toglierla per esempio quando si va in spiaggia, vorrei vedere insomma. Impone la sua amante alla moglie, cambiamo argomento, ma lei lo denuncia e chiede danni. Ora questa è una storia che è finita a processo a Pesero e che vede un 57enne di Pesero accusato di reati, di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni, un rapporto diventato teso nel 2019 ma che durante il lockdown ha avuto le conseguenze più delicate. Ha seguito queste fasi del processo Luigi Benelli, si parla appunto di questo uomo che ha l'amante, lui lo dice candidamente ma avrebbe continuato a maltrattare la ex moglie sminuendola e umiliandola. Una volta le avrebbe persino sputato in faccia dicendo ti attacco il coronavirus. Poi lasciato dalla compagna minaccia di uccidersi, questo è successo in un tandem tra Pesero e Parma, si sono mosse in tanti per salvare un trentenne in preda alle pene d'amore. Nella notte tra mercoledì e giovedì una donna moldava ha allertato la questura di Parma perché aveva da poco ricevuto un messaggio del fratello che in preda allo sconforto minacciava di farla finita. Poi c'è tutto il racconto, in sostanza lui una volta raggiunto ha detto no, io non mi sarei mai realmente ucciso perché evidentemente lo sconforto c'è ma insomma fino a un certo punto e allora ha rassicurato tutti e quindi al di là dello spavento e della preoccupazione per il resto è finita bene. Da Colli al Metauro, siamo in provincia sempre di Pesurbino, chiedo Pfizer ma vogliono farmi AstraZeneca. Questo è il virgolettato perché fa parte in sostanza di una lettera che questo residente di Colli al Metauro ha spedito alla prefettura dove lui sostiene che ognuno dovrebbe avere il diritto di farsi somministrare quello che preferisce. Io, dice ancora quest'uomo, non prenoterò altri appuntamenti ma sia chiaro che se nel frattempo dovesse incontrare il virus qualcuno mi pagherà i danni e anche molto salati. Mi aspetto pertanto di avere riscontri in tempi rapidi e per fortuna, dice e conclude lui, che da tutte le parti ci invitano a vaccinarmi. Questa invece è l'altra pagina del resto del Carlino. Lui ha 20 anni, lei 15, l'accusa violentata. Rapporto sessuale dopo una serata in un locale di Baia Flaminia, siamo a Pesero, questa è una storia di qualche settimana fa, siamo nel mese di maggio, poi a casa del ragazzo arrivano i carabinieri. L'ipotesi? Indotta a bere alcolici. I militari hanno sequestrato il cellulare del giovane e due SIM, sono le carte, le SIM del telefonino, al setaccio telefoni e messaggi. Ora, telefonate i messaggi. Ora, la storia che racconta Alessandro Mazzanti questa mattina sul giornale, ovviamente ve la lascio leggere perché è descritta molto bene e quindi ci sono dei risvolti che insomma fanno pensare, ma comunque questo giovane dopo aver fatto appunto sesso con questa ragazza che tra l'altro appunto è minorenne perché ha 15 anni, insomma, lui 20, il giorno dopo si ritrova i carabinieri a casa. Sua nipote ha il Covid, è grave, ci servono i soldi per curarla. Qui siamo sulla pagina di Cattolica, ma al di là del fatto che sia la pagina di Cattolica, poteva essere qualsiasi altra pagina, per dirvi che cosa? Di fare attenzione, di stare attenti. Già Luca Murgio questa mattina racconta di questa disavventura capitata a questa anziana che è stata raggirata, nel frattempo è stata arrestata una donna, aveva ottenuto oro per 5.000 euro e ovviamente anche soldi in contanti. Questa donna ha 73 anni, l'anziana sotto shock ha consegnato quanto aveva in casa, 140 euro in contanti e oro per 5.000 euro e una volta verificato con i familiari che la nipote in realtà stava bene, è scattata la denuncia. Quindi la scusa era, sua nipote ha il Covid, è grave, servono soldi per pagare le cure e quindi per salvarle la vita. Questa è anche qui una variante della truffa, una volta era suo figlio, suo nipote, ha avuto un incidente, serve soldi, eccetera, eccetera. Questa è una variante della truffa, anche le truffe hanno le loro varianti, questa volta la variante è il Covid. C'è anche un'altra variante, andiamo sul titolo del Corriere di Fano, ma questa volta non c'entra niente con il virus, variante Gimarra, altri 10 milioni per il percorso con le due gallerie. La variante, questo invece è il piano regolatore che prevede anche appunto le varianti, la stima del Vice Sindaco sull'opera ritenuta prioritaria e strategica, Mazzanti ribadisce l'opposizione del Movimento 5 Stelle. Sempre da Fano, ma questa volta dal Corriere d'Arresto del Carlino, Reginelli sulle multe, nessun accadimento, è un articolo scritto da Anna Marchetti, il presidente di Aset, dice dei parcheggi a pagamento, si parla in realtà da due anni a Fano, e ancora di più negli ultimi tre mesi. Per quanto riguarda gli accertatori, fanno semplicemente il loro dovere. Si parla dei parcheggi che sono diventati a pagamento, quindi blu a Lido e a Sassonia. Reginelli, presidente di Aset, dice nessun accanimento, gli accertatori fanno solo loro dovere. Dopo le polemiche sulle multe che sono già scattate dal primo giorno, quindi dal lunedì 14 giugno, dalle entrate in vigore dei 311 stalli blu, tra Viale Adriatico, Viale Cairoli, Piazzale Amendola e Via Spontini. E quindi, insomma, credo che per quest'estate sarà così, poi dopo vedremo la prossima. Con 3 euro, invece, ne porta a casa 200 mila una super vincita al caffè centrale di Marotta, e un grattino piccolino, insomma, che poi ha prodotto questa vincita importante. Inaugurata, invece, la vasca di prima pioggia, Guzzi parla però di grave siccità del metauro, non piove e quindi il problema resta. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa. L'assessore regionale ha lanciato l'allarme sulle risorse idriche, l'impianto proteggerà però il mare dall'inquinamento. Mentre sulla pagina 21 del Corriere si parla invece di questa iniziativa dell'Associazione Sindrome di Williams che apre a tutti le gite in mare da Marina dei Cesari, dal porto turistico di Fano. Sono escursioni in barca con i ragazzi come esperienza di inclusione. Ecco, anche questo, anche noi l'abbiamo seguita come redazione, ogni anno lo facciamo. I diversamente abili fanno parte con perizia dell'equipaggio addetto alla navigazione e quindi per chi vuole può fare questa esperienza. C'è un numero di telefono, come scrive Foghetti sul giornale di questa mattina, al quale chiamare per fare questa uscita in mare. Al campo di Marte, a Pesaro invece, niente sosta, si preparano gli stalli a pedaggio. Da domani e per tutti i fine settimana, estivi, nell'area di Baia Flaminia, si dovrà pagare i ticket. Vedete, non c'è soltanto Fano che disegna i parcheggi blu, anche se qui a Campo di Marte, che è un bel parcheggione, che serve molto per chi va al mare lì alla Baia, anche se qui, dicevo, è soltanto nel fine settimana e non tutti i giorni, come invece accade a Fano. Oggi, però, attenzione, siccome devono fare i lavori per dipingere le strisce, eccetera, eccetera, oggi non ci si può parcheggiare. È prevista la rimozione forzata dei mezzi per lasciare spazio, appunto, all'allestimento. Andiamo a vedere l'altra pagina, quella della Valmetauro, sempre dal Corriere. Aset, utili ai comuni da tagliare per ridurre le tariffe agli utenti. La mozione approvata dal Consiglio Comunale di Coglio Almetauro che vuole l'azienda pubblica. Fratelli d'Italia attacca le minoranze del PD che ha votato contro l'atto con una banale scusa. Poi, andiamo sulla pagina invece di Urbino dove ieri pomeriggio si sentivano pensate persino da Fano. Se chi ha l'orecchio attento e buono i tuoni si sentivano persino dalla costa. Eppure il cielo sulla costa era sereno. C'era il sole eppure si sentivano in lontananza questi tuoni. Una situazione molto bella. A me è capitata di sentirli. Poi ho visto i radar e effettivamente il radar indicava piogge temporali sul Monte Nerone. Che cosa è successo? Ce lo dice il Corriere Adriatico. Un fulmine ha colpito un albero e ha scatenato l'inferno. Una bomba d'acqua ieri sul Nerone intorno alle 4 del pomeriggio. E poi questo fulmine che ha provocato questo incendio in una zona impervia. E quindi è dovuto arrivare un elicottero per spegnerlo. Ne parla Angelo Parlani. di questo evento atmosferico. Intanto la storia invece che vi segnalo su Urbino e provincia del resto del Calino è la storia di un giovane. Di un giovane che è arrivato... Guardate queste fotografie. Chiaramente il gommone è uno dei tanti. Non è quello. Ma comunque tanto per rendere l'idea perché abbiamo bisogno anche di queste fotografie che ci ricordano queste scene e possiamo solo immaginare ma lontanamente quello che possa aver provato questo ragazzo che adesso è a 20 anni uno chef si chiama Raed Abdalla una comunità urbinata e l'Istituto Pellicano l'hanno accolto ora è diventato uno chef. Lasciare casa da giovanissimi per partire verso un paese lontano di cui si ignorano lingua, cultura e in cui non si hanno conoscenti è una delle scelte che richiedono certamente coraggio come scrive Nicola Petricca questa mattina sul giornale e racconta questa storia. Sempre a Urbino invece il racconto di una signora la signora è Maria Luisa Moscati che è rimasta per mezz'ora in balia dei cinghiali bloccata tra la porta di casa e l'auto parcheggiata poco distante la sua villa è vicino all'ospedale quindi neanche tanto lontano dal centro di Urbino insomma è per dirvi che a Urbino c'è un problema serio di cui se ne stanno occupando in realtà ormai da un po' di tempo le autorità è che è quella della presenza di tantissimi cinghiali non è un caso raro come è successo alla signora Moscati uscire di casa e guardarsi intorno non per vedere se ci sono malintenzionati ma se ci sono gli cinghiali quindi pensate voi com'è la situazione intanto da Senigallia più controlli contro gli atti vandalici ecco gli agenti in borghese in spiagge il servizio della polizia locale verrà esteso fino alle 3 di notte nel fine settimana la solidarietà del sindaco purtroppo Senigallia come abbiamo visto anche ieri ci sono sempre più scene episodi di vandalismo hanno praticamente rotto tagliato i lettini degli ombrelloni insomma ecco quindi la situazione è un po' complicata Senigallia tant'è che la rotonda vedete diventa sorvegliata speciale nella notte in attesa del concerto dell'alba di Mario Biondi tappa del Cater Tour di quest'anno ma voglio segnalarvi alla Parrocchia della Pace eccolo qua sempre dal Corriere è arrivata la statua della Madonna Pellegrina di Meggiugorje resterà fino al 1 di luglio il 25 giugno lo ricordiamo ricorre il quarantesimo delle apparizioni l'ultima pagina della nostra rassegna è quella di Sport Fano aspetta che resto il centrocampista Marino sta recuperando dall'infortuna al ginocchio dice lui dovrò spingere fino a settembre ma la notizia forse che interessa in questo momento di più i tifosi e in parte anche la città comunque società è comune oggi un nuovo incontro il futuro del club resta ancora in bilico gli appelli della tifoseria non hanno sortito effetti sugli imprenditori fanesi insomma imprenditori che notoriamente affano si sono sempre un po' defilati diciamoci la verità non interessa il calcio agli imprenditori fanesi non è appassionante c'è poco spettacolo ed è una rimessa questa è la storia e quindi con i tempi che corrono insomma buttare i soldi in una squadra di calcio diventa sempre più più difficile una volta c'erano i costruttori che pur di dare una mano al sindaco con qualche cosetta qua e là insomma si trovava sempre la quadra adesso diventa tutto molto più complicato i tempi sono completamente diversi questa è un po' la storia ma comunque c'è questo incontro oggi tra la dirigenza dell'Alma e l'amministrazione comunale domani vi diremo come sarà andata sempre attraverso i giornali grazie per averci seguito vi ricordo stasera un approfondimento in studio con l'assessore al turismo del comune di Fano Etienne Lucarelli si parlerà evidentemente di manifestazioni quindi è importante anche per capire come sarà l'estate dei fanesi se ci saranno iniziative sicuramente sì e quindi vi invito ad ascoltarle stasera noi invece ci vediamo un po' prima alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci grazie a tutti